Stavo dicendo che è stata un'esperienza piuttosto avventurosa, ho conosciuto tante gente, quindi è stata anche molto costruttiva. Riguardo la lingua russa ho decisamente da fare un sacco di progressi, ho capito un po' di cose, un po' di ciò che mi affascina delle lingue, ossia come si approcciano un po' al significato delle cose, motivo per cui ho scelto di studiare la lingua russa. Sono venuto a Kiev perché chiaramente non mi sento vincolato alla Russia, ma andrebbe di girare, di viaggiare per tutti i paesi slavofili. Niente, spero e di sicuro programmo di tornare un'altra volta qui, ci sono tantissime cose belle da vedere, tantissime ragazze, basta, penso sia tutto ciò che si possa dire in un video.